Con la quotazione in borsa di Facebook, il fondatore e miliardario Mark Zuckerberg sta per diventare ancora più ricco. Il giovane prodigio della Silicon Valley possiede il 28% delle azioni della società, una quota che, se sarà centrato l'obiettivo di una capitalizzazione da 100 miliardi di dollari, gli frutterà 28 miliardi di dollari, oltre a permettergli di mantenere il controllo del gruppo.